L'aerospazio è uno dei settori del futuro per il Medinitano italiano. Da qui al 2026 abbiamo messo in campo 7 miliardi e 200 milioni di euro tra progetti dell'Agenzia Spaziale Europea, progetti dell'Agenzia Spaziale Italiana, fondi nazionali e fondi del PNR, una massa di risorse importanti e significativi per far diventare il nostro Paese leader nella space economy. Questo meeting giunge il momento più appropriato perché tra poche ore inizia l'iter in Parlamento della legge quadro sulla space economy, la prima legge nazionale italiana sullo spazio, che anticipa quando vuole fare l'Europa con un prossimo regolamento europeo sullo spazio e che regolamenta le attività dei privati e non soltanto dello Stato sullo spazio. Una legge di cui l'Italia aveva già bisogno nel passato e oggi è assolutamente necessaria perché oggi nello spazio vanno sempre più anche i privati. E occorreva regolamentare, e noi l'abbiamo fatto per primi, cosa devono fare i privati e cosa debba fare lo Stato per regolamentare l'attività, l'accesso dei privati nello spazio con tutte le altre iniziative assolutamente necessarie. Tra l'altro nella legge c'è un'attenzione particolare allo sviluppo e al sostegno alle piccole e medie imprese che sono parte importante e significativa dell'ecosistema italiano fatto di grandi ma anche di piccole e medie imprese sull'economia dello spazio. Per noi è assolutamente prioritario e tra l'altro uno degli asset fondamentali del Piano Mattei. Io stesso come autorità delegata allo spazio, oltre che come Ministro delle Imprese e del Mendiniti, sono stato più volte in questi mesi in Paesi africani per raggiungere intese bilaterali attraverso la nostra Agenzia Spaziale Italiana con quei Paesi che cominciano ad affacciarsi anch'essi sullo spazio.